come stai figliolo e lei sergente come mi hai chiamato come dice scusa come mi hai chiamato figliolo l'ho chiamata sergente prima di sergente non ho detto niente prima di sergente tu hai detto è lei io non sono una lei amico il lei è una cosa che si dà una femmina secondo te io sono una femmina figliolo no signore no signore più forte tesoro no signore vuoi mettermelo al culo per caso è per questo che mi hai chiamato lei ma sei una chicca tu ma no signore di dove sei figliolo Oklahoma City Oklahoma signora solo due cose vengono dall'Oklahoma Tori e checche tu che sei figliolo io non vedo le corna quindi devi essere una chicca no signore smettila di sussurrare tesoruccio se non mi fai eccitare tutto no signore grazie 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 Grazie.